Il rischio di dissesto del Comune di Imperia ha prodato ieri sera anche al Consiglio Comunale con l'esposizione della situazione finanziaria da parte dell'assessore Fabrizio Giribaldi e con l'annuncio da parte del sindaco Claudio Scaiola dell'imminente nomina di un professionista con l'incarico proprio di cercare di rispondere in modo concreto alle molte contestazioni sollevate dalla Corte dei Conti. Scaiola ha anche aggiunto che oltre a quanto emerso dalla Corte dei Conti, il Comune rischia di perdere una causa da 2.800.000 euro sul depuratore e ha ricevuto un'ingiunzione di pagamento di 700.000 euro dalla provincia per il mancato pagamento dell'addizionale sui rifiuti. Il Consiglio ha poi approvato a maggioranza il bilancio consolidato, il DUP, il documento unico di programmazione contestato dall'opposizione. È stata invece bocciata, sempre a maggioranza, la richiesta di Marianella Ponte, del Movimento 5 Stelle, di istituire una commissione speciale contro corruzione, mafia e racket. Luca Falciola per la maggioranza ha spiegato il voto contrario bollando il documento come un testo spot destinato a cercare solo un facile consenso.